Ciao a tutti ragazzi, sto guardando il Gran Premio, sto facendo di tutto, ma ho deciso comunque, lo vedete qua, ho deciso comunque di fare questo video qua, ne farò anche un altro che uscirà verso l'ora di cena. Però prima di iniziare a parlare del centrocampo della Juventus e degli sviluppi, lato Locatelli, perché ha parlato anche Fabrizio Romano da poco e ci sono degli sviluppi interessanti, anche la Gazzetta ha fatto uscire un articolo già dettagliato sulle cifre, insomma, ci arriviamo, monotematici questo cazzo di Locatelli, io li voglio bene, sapete quanto lo vogliamo, monotematici, noi creators bianconeri. Ora, prima di iniziare, intanto scaricatevi la PuanFootball così rimarrete sempre sul pezzo, lato mercato, lato piccoli sviluppi come oggi, aggiungetevi al mio canale Telegram perché là trovate veramente qualsiasi tipo di aggiornamento sul mercato e su mille cose, mi raccomando. Allora, oggi apro subito Sport Mediaset, prima notizia, inizia la stagione dell'Inter con un successo. Ho detto, caspita, negoioni, cioè, complimenti. Vado a vedere, l'Inter batte il Lugano ai rigori. E io, cosa? Con un successo? Inizia la stagione con un successo? Quindi hanno già vinto lo scudetto, cioè, inizia la stagione con un successo. Un successo è qualcosa che è fuori dall'ordinario. È una vittoria importante, un successo, appunto. Con Lugano ai rigori, imbarazzante. Ma non è colpa dell'Inter. L'Inter, giustamente, si allena. È il giornalista, come ha scritto l'articolo, che pare che abbiano fatto qualcosa di straordinario. Ma vabbè, a noi di queste cose ce ne frega relativamente. Dobbiamo parlare del centrocampo perché il sottoscritto ha sempre descritto il centrocampo della Juventus come carente. Spesso causa di disastri in Europa, spesso causa di cattivo gioco, non proprio brillantezza nei fraseggi e via discorrendo. È una cosa che io non rinnego. Io credo che da quando abbiamo, insomma, distrutto Vidal, Pogba, Pirlo, Marchisi o quel centrocampo là, non tutti e quattro insieme, ma quei quattro uomini là, quando li abbiamo persi, abbiamo perso tanto. Non siamo mai riusciti a creare un centrocampo simile sul quantitativo di qualità che aveva. Ma non ci siamo mai avvicinati. Neppure con Pjanic, che è un giocatore individualmente forte. Forse l'anno che siamo arrivati a Cardiff, lui e Chedina hanno fatto molto bene, sì. Però fisicamente hanno letto fino a un certo punto e non ne avevano più. Per cui abbiamo mancato anche, secondo me, di prestanza fisica rispetto a prima, al passato. E per me il centrocampo è un cruccio perché io reputo che le squadre vadano costruite dal centrocampo. Cioè il centrocampo è il motore di una squadra. Va a inificiare, se è cattivo, in difesa per la fase difensiva, in attacco nel rifornimento offensivo. Per cui il centrocampo è di merda, difende male e va a sollecitare tanto la difesa. Per cui anche una difesa composta da top player spesso va in difficoltà se non ha un centrocampo adatto che fa filtro. D'altro canto i fornimenti non arrivano se c'è un centrocampo di qualità discutibile. La Juventus ha dei singoli interessanti, ma a mio parere è un centrocampo allestito male. Questa è una roba che io penso da tanto. Nell'anno di Sarri, per esempio, ho iniziato a dare il beneficio del dubbio perché c'erano due innesti importanti. C'erano Rabiot e Ramsey, che a livello individuale sono degli innesti importanti e singolarmente c'è poco da discutere. Però nel contesto non mi hanno mai soddisfatto. Quest'anno Rabiot nel finale di stagione mi ha in parte convinto. Ma perché? Perché la Juventus ha cercato di dominare il gioco senza uomini che avevano nelle corde la capacità di tenere palla e di fare dei fraseggi prolungati. Il nostro centrocampo è il classico centrocampo che si è imbottigliato tra le linee e in mezzo al traffico, fa fatica a tenere palla. Siamo una squadra da ripartenza ad oggi, vista le caratteristiche individuali dei singoli. Guardate i singoli che abbiamo, sono tutti da ripartenza. Basta. E questa è una cosa che io credo. Infatti, quando la Juventus ha giocato in mi chiudo e riparto, ha fatto sempre del male. Si è lavorato anche male nei movimenti senza palla, soprattutto dal centrocampo in su. Per l'occupazione dell'area di rigore. Infatti, abbiamo avuto uno score infelice rispetto a tutti gli altri centrocampi europei in termini di gol. Per cui, credo che Locatelli possa aiutare la causa, ma non sarà mai abbastanza. Cioè, ne servirebbe un altro. Un altro che si occupi degli ultimi 30 metri. Un Van de Beek? Arrivasse lui, io ne sarei felice. Io vi ripeto, parlando di uomini e di esperienze passate, vi faccio questo ragionamento. Se poi Allegri sarà in grado di far rendere questo centrocampo, anche dal punto di vista di gol, assist e difesa, nulla da dire. Perché questo non lo escludo. Perché un Rabiot con Allegri, secondo me, è pane e salame. Cioè, vanno d'accordo. Vanno d'accordissimo. Però, secondo me, a livello qualitativo siamo comunque inferiori a altri centrocampi. Fatevi un po' la lista dei centrocampisti che abbiamo, confrontateli con altre quattro squadre top europee e ditemi dove giocherebbero i nostri e se giocherebbero. Io credo che faremo fatica a infilare una titolarità nelle altre quattro squadre. Quindi c'è da migliorare? Punto di domanda. Sì, cazzo. Perché? Perché il centrocampo fa tutta la differenza del mondo. Ripeto, io preferisco avere un centrocampo top e attacco e difesa ottimi. Non dico buoni perché comunque anche questi singoli devono fare la differenza. Rispetto a attacco top, difesa top e centrocampo ottimo. Niente di che. Perché, ripeto, secondo me il centrocampo incide troppo. Sposta troppo. Nella partita sposta troppo. E quindi è importante fare degli innesti di qualità. Locatelli lo è. E Locatelli, secondo Fabrizio Romano, secondo le ultime di mercato, insomma, lui sta spingendo tanto. Voglio la Juve, voglio la Juventus, voglio andare alla Juventus. L'Arsenal, d'altro canto, è vero che ha un'offerta pronta di 40 milioni cash da dare al Sassuolo. Ma non vuole che il giocatore vada all'Arsenal contro voglia. Per cui, se non c'è la volontà del giocatore di andare all'Arsenal, bene così. Per cui, è possibile che ci siano due opzioni per Locatelli. O viene alla Juventus, lo pagheremo in qualche modo. Poi parliamo delle cifre perché la Gazzetta ha fatto anche, insomma, ha menzionato qualche cifretta qua e là. Oppure rimane al Sassuolo. C'è il rischio che lui rimanga al Sassuolo. Io non credo che Carnevali voglia puntare ancora su Locatelli. Perché, secondo me, adesso, con l'Europeo, è il miglior momento per cedere Locatelli. Perché se l'anno prossimo, un po' demotivato, ti fa la stagione così così, un po' come è successo per Sergei Milinkovic-Savic, quando si parlava di tanti interessi di diverse squadre, quando lo titolo ha detto, no, io non lo vendo. L'anno successivo ha avuto una scarsa resa perché, a livello motivazionale, il ragazzo un po' si è depresso. E il gioco ne ha risentito. Le sue performance ne hanno risentito e il suo valore si è ridotto. Ora ha rialzato un pochettino perché dopo anni si era messo l'anima in pace. Però, nell'anno in cui è stato detto, no, tu d'estate non ti muovi da nessuna parte, lui poi ha fatto fatica, ha fatto una faticaccia di nuovo a ritrovare quel tipo di forma smaiante. Lo stesso potrebbe succedere a Locatelli. Per cui, il momento è catartico e propizio per la cessione definitiva di Manuel Locatelli. Secondo la Gazzetta si potrebbe chiudere con un pagamento di 35 milioni, con magari formula di comprestito con obbligo di riscatto, ma 35 milioni pagabili in 5 anni. Paradossalmente andremo a pagare l'ammortamento piano piano le rate, ecco. Perché andremo a pagare 7 milioni l'anno circa. Questo è. Locatelli avrebbe uno stipendio da 2 milioni e mezzo. E la cosa veramente può andare in porto. Staremo a vedere. La Juventus vuole chiudere entro 10 giorni, a quanto pare, perché vuole, così, in questo modo, Massimiliano Allegri, avere in mano già questo centrocampista. Ora io dico, secondo me serve una mezzala non di possesso ma di inserimento che occupi gli spazi, che sappia terminare l'azione, che sappia rifinire l'azione. Van de Beek, secondo me, è un nome top. Se dovesse esserci la possibilità di scambio con Rabiot, io lo farei, nonostante apprezzi l'ultimo Rabiot tantissimo. Però dipende un po' da come vuole giocare Max Allegri. Perché se Max Allegri vuole giocare in ripartenza, a quel punto uno come Van de Beek è sprecato e mi deve meglio Rabiot uno di gamba. Quindi è da capire un po' che cos'è in testa l'allenatore. Trovare un altro individuo o che venga, mi auguro, in caso di non acquisto di nessuno, non posso fare la critica preventiva. Perché voglio vedere che cosa succede. Io non critico tanto il mercato e non mi incazzo più di tanto per il mercato. Perché certi giocatori svoltano da così a così. Prima era una cosa, poi era un'altra. Voglio capire come Allegri riesce a rivalutare il nostro patrimonio tecnico. Perché questi qua singolarmente hanno dimostrato che in altri campi come quelli europei o quelli nazionali di saper giocare, di saper incidere e di saper fare delle cose straordinarie che magari alla Juventus non riuscivano a fare. Per questione di contesto, per questione di compagni di riparto, eccetera. Per cui sono curioso di capire come allestirà eventualmente Max Allegri il centrocampo. Non boccio a priori nessuno, ma vedendo un po' il passato, vedendo un po' l'andazzo del centrocampo della Juventus, io credo che la Juve abbia bisogno di un altro centrocampista che sappia incidere moltissimo là davanti. Se poi arriva Allegri con le idee chiare e riesce a farmi volare tutti i centrocampisti che abbiamo in rosa, bene. Ad oggi, io ripeto, non sono soddisfatto del solo acquisto di Locatelli. Però, ripeto, sempre la riserva la lascio, perché non so quanto questo allenatore può spostare in termini di mediana. Aspettiamo e vediamo un po' come è successo con Sarri. Io con Sarri, quando arrivarono Ramsi e Rabio, aspettai prima di tirarne le somme. Questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo più tardi. Un altro video veloce, ci sono diverse novità. C'è Frabotta in uscita, c'è Milenkovic che, insomma, interessa, fa gola. C'è Caglio Giorgi, insomma. Non vi dico... c'è anche il talismano, il talismano Padoin. Ne parliamo nel video più tardi. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Intanto Leclerc è primo, Hamilton è ancora là, però, insomma, sto facendo degli ottimi giri. Vediamo come finirà anche sto Gran Premio. Ciao belli e sempre fino alla fine. Forza Juventus!